mister benvenuto a Foggia quali sono le prime sensazioni sono belle belle sono appena entrato con la macchina subito visto il campo bello stadio una bella atmosfera sono molto felice contento di essere qui e non vedo l'ora di iniziare già il lavoro di domani adesso partiamo per il ritiro sono molto contento cosa si aspetta da questa esperienza la sua prima da allenatore spero di essere felice insieme alla società i giocatori riuscire a fare delle cose importanti scrivere la storia scrivere il mio nome nella storia del foggia e che è un club tradizionale importante in italia sono questi mio desiderio la trattativa con il presidente fellica è nata a londra ci racconta qualcosa sì sì siamo conosciuti lì a londra eravamo lì a cena a un certo punto lui entra e salutiamo e lì inizia non la trattativa inizia a parlare possibilità di signi di no poi con il passato dei giorni le cose iniziate a diventare un po più diciamo calda e ringrazio a dio siamo riusciti a chiudere siamo al centro dello stadio pino zacchieria se lo immagino appieno mai visto qualche video qualche foto quando abbiamo iniziato la la conversazione io subito su youtube per capire un po dove mi sto mettendo i piedi mi piace mi piace questa questa idea questa atmosfera buon lavoro grazie